Più delle stelle, la cosa meravigliosa in assoluto è una donna in rinascita, quando si mette in piedi dopo la catastrofe, dopo la caduta, tu dici è finita, no, finita mai. L'importanza dell'unicità, ognuno di noi, ognuno di queste donne, è qualcosa di unico, che può cambiare il mondo, può cambiare in meglio il mondo. La donna in rinascita è la più grande meraviglia per se stessa e per chi la incontra, è la primavera a novembre, quando meno te lo aspetti.